Dalla musica anni sessanta, si nà quella degli anni novanta. L'energia è la musica del trio Beppe, Marco e Robi al centro di aggregazione sociale Fiorentina di Arezzo per una serata speciale. Vedo che la gente è contenta e questo mi fa piacere. Poi ho visto anche da parte di questi tre operatori che fanno anche delle cose per quanto riguarda gli anni novanta, sessanta, ottanta che Renato Zero stanno facendo. Una cosa bellina da vedersi, una cosa nuova che noi si spera di poterla riproporre eventualmente e successivamente. Per la maggiore noi abbiamo tante persone che fanno i balli di gruppo, la maggior parte, però giustamente non bisogna mai tralasciare anche il ballo della sala. Però io sono soddisfatto che questa cosa si possa portare avanti ancora e che ci sia un buon risultato anche nella presenza delle persone. Per la maggiore della CORTA